Cosa sta preparando? Allora, stiamo preparando l'aperitivo, il nostro aperitivo. Partiamo con un cono di pasta croccante con una mousse di avocado. Inseriamo la mousse di avocado, poi mettiamo le uova di salmone, sopra così. Poi, il secondo elemento, questa è una parmigiana morbida all'interno, sono elementi della parmigiana, quindi classica e poi viene dotato in questa maniera. Terzo elemento, cacio e pepe, per rimanere in tema del Lazio. Se volete un po' di pepe, per favore? Sì. Un po' di pepe, perfetto. Ok, invece, per completare, per rimanere sempre in tema Laziale e Locale, la carbonara, quindi una pasta soffiata, un'orecchietta, con una crema carbonara, quindi la pasta, la carbonara, e poi mettiamo qualche erbetta fresca per dare un po' di colore. Alla parmigiana mettiamo, ovviamente, una fogliolina di basilico, in questa maniera, e ci siamo. Questo piatto è stato preparato da? Antonio Maggiulo, il ristorante di Sissab, del hotel La Costa Vecchia, di Addispo.